domenica undicesima dopo la pentecoste questa domenica l'undicesima di san matteo prende il suo nome presso i greci dalla parabola del re che impone la resa dei conti ai suoi servi mt 18,2335 viene chiamata in occidente la domenica del sordo muto da quando il vangelo del fariseo è stato spostato otto giorni prima la messa attuale conserva ancora tuttavia sarà facile constatarlo parecchi ricordi dell'antica disposizione negli anni in cui la pasqua si avvicina maggiormente al 21 marzo la lettura dei libri dei re continua fino a questa settimana che non sorpassa mai è la malattia di ezechia e la guarigione miracolosa ottenuta dalle preghiere del santo re che formano allora all'argomento delle prime lezioni dell'ufficio della notte 4 ore 20 messa epistola 1 cor 15,1 10 fratelli vi dichiaro il vangelo che v'ho annunziato che voi avete ricevuto nel quale state saldi e per quale siete anche salvati se lo ritenete tale e quale ve l'ho predicato a meno che non abbiate creduto in vano vi ho infatti insegnato prima di tutto quello che io stesso ho appreso cioè che cristo è morto per i nostri peccati come dicono le scritture che fu sepolto che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a cefa e poi agli undici di poi apparve a più di 500 fratelli riuniti dei quali molti vivono ancora e alcuni sono morti poi apparve a giacomo quindi a tutti gli apostoli e finalmente dopo essere apparso a tutti apparve anche a me camo l'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo avendo perseguitato la chiesa di dio ma per la grazia di dio san quello che sono e la grazia che mi ha data non è stata vana anzi ho faticato più di tutti loro non io però ma la grazia di dio che è con me contrizione e carità domenica scorsa il pubblica non ci ricordava l'umiltà che conviene al peccatore oggi il dottore delle genti ci mostra nella sua persona che questa virtù non risiede di meno nell'uomo giustificato il quale ricorda di aver offeso un tempo l'altissimo il peccato del giusto fosse anche da lungo tempo perdonato rimane costantemente dinanzi ai suoi occhi sal 50,5 sempre pronto ad accusare se stesso pr 18,17 e lì non vede nel perdono e nell'oblio divino et 18,22 che un nuovo motivo di non perdere mai il ricordo delle sue colpe i celesti favori che vengono a compensare la sincerità del suo pentimento guidandolo più innanzi nella comprensione dei diritti della giustizia infinita sal 70,16 gli rivelano meglio anche l'enormità dei suoi delitti volontari che sono venuti ad aggiungersi all'immondezza della sua origine sal 1,67 presto in questa via l'umiltà non è più soltanto per lui una soddisfazione data alla giustizia e alla verità dal suo intelletto illuminato dall'alto men mano che egli vive con dio in una unione più stretta e che si eleva mediante la contemplazione nella luce e nell'amore la divina carità che lo urge sempre più in tutti i modi 2,5,14 si nutre del ricordo stesso delle sue colpe essa scruta l'abisso da cui la grazia la tratta per risorgere da quelle profondità più impetuosa più vittoriosa e più attiva allora la riconoscenza per le inestimabili ricchezze che oggi possiede dalla somma monificenza divina non basta più al peccatore d'un tempo e la confessione delle miserie trascorse sgorga dalla sua anima rapita come un inno al signore la nostra collaborazione alla grazia per la grazia di dio sono ciò che sono deve dire infatti il giusto insieme con l'apostolo e quando è stabilita nella sua anima questa verità fondamentale può senza timore aggiungere con lui la sua grazia non è stata sterile in me poiché l'umiltà si fonda sulla verità si verrebbe meno alla verità riferendo all'uomo ciò che nell'uomo viene dall'essere supremo ma sarebbe anche andare contro di essa non riconoscere insieme con i santi le opere della grazia dove dio le ha volute porre nel primo caso resterebbe offesa la giustizia non meno della verità nel secondo la gratitudine l'umiltà il cui diretto fine è di evitare tali ingiuste lesioni della gloria dovuta a dio ponendo un freno agli appetiti della superbia diventa così d'altra parte il più potente ausiliare della riconoscenza nobile virtù che sulle vie della terra non ha maggior nemico dell'orgoglio gloriarsi in dio quando la vergine proclamava che tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata l'entusiasmo divino che la animava era tanto l'estasi della sua umiltà che del suo amore la vita delle anime elette presenta ad ogni passo tali sublimi trasporti in cui facendo proprio il cantico della loro regina esse magnificano il signore cantando le grandi cose che ha fatte mediante loro nella sua potenza quando san paolo dopo l'apprezzamento così basso che fa di se stesso a paragone degli altri apostoli aggiunge che la grazia è stata fertile in lui e che ha lavorato più di tutti non crediamo che cambi tema o che lo spirito il quale lo guida voglia correggere in tal modo le sue prime espressioni un solo bisogno uno stesso ed unico desiderio gli ispira quelle parole in apparenza diverse e contrarie il desiderio e il bisogno di non frustrare dio nei suoi doni sia mediante l'appropriazione dell'orgoglio sia mediante il silenzio dell'ingratitudine vangelo mc 7,3137 in quel tempo partitesi di nuovo dai confini di tiro gesù per la via di sidone tornò verso il mare della galilea attraversando il territorio della decapoli e li condussero un sordo muto e lo supplicavano che gli imponesse la mano ed egli trattolo in disparte dalla folla gli mise le mani nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua e poi guardando il cielo sospirò e disse effeta cioè apriti subito gli si aprirono gli orecchi e gli si sciolse il nodo della lingua e parlava speditamente e i gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno ma quanto più loro lo vietava tanto più lo spargevano e ne stupivano oltremodo esclamando e gli ha fatto bene ogni cosa fa che sentano i sordi e parlino i muti il genere umano malato i santi dottori ci insegnano che quell'uomo rappresenta tutto il genere umano al di fuori del popolo ebreo abbandonato da lungo tempo nelle regioni dell'aquilone dove regnava solo il principe di questo mondo ha risentito i disastrosi effetti dell'oblio nel quale l'aveva messo all'apparenza il suo creatore e padre in seguito al peccato di origine satana la cui perfida astuzia l'ha fatto schiacciare dal paradiso essendo se ne impadronito ha superato se stesso nella scelta del mezzo che ha usato per conservare la sua conquista la tirannia sagace dell'oppressore ha ridotto il suo schiavo ad uno stato di mutismo e di sordità che lo fissa meglio di quanto potrebbero delle catene di diamante sotto il suo impero muto per implorare dio sordo per sentirne la voce le due strade che potevano condurlo alla liberazione sono chiuse per lui l'avversario di dio e dell'uomo satana può applaudire a se stesso così è lo si può credere dell'ultima fra le creazioni dell'onnipotente così è del genere umano senza distinzione di famiglie o di popoli poiché la stessa gente custodita dall'altissimo come sua porzione eletta in mezzo alla decadenza dei popoli dt 32,9 ha approfittato dei suoi privilegi per rinnegare ancor più crudelmente di tutti gli altri il suo signore e il suo re il miracolo l'uomo dio geme davanti a una miseria estrema e come avrebbe potuto farne a meno alla vista delle devastazioni compiute dal nemico su quell'essere di elezione levando dunque al cielo gli occhi sempre esauditi della sua santa umanità gv 11,42 vede la condiscendenza del padre alle intenzioni della sua misericordiosa compassione e riprendendo l'uso di quel potere creatore che fece tutte le cose perfette al principio pronuncia come dio e come verbo ivi 1,3 la parola onnipotente di restaurazione effeta il nulla o piuttosto in questo caso la rovina peggiore del nulla obbedisce a quella voce ben nota l'udito dell'infelice si risveglia si apre gioiosamente agli insegnamenti che gli prodiga la trionfante tenerezza della chiesa le cui materne preghiere hanno ottenuto tale liberazione e per la fede che penetra contemporaneamente in esso producendo i propri effetti la sua lingua incatenata riprende il cantico di lode al signore interrotto da secoli per il peccato sal 50,17 l'insegnamento tuttavia l'uomo dio in questa guarigione a meno di mira la manifestazione della potenza della sua divina parola che l'ammaestramento dei suoi intende così rivelare ad essi simbolicamente le realtà invisibili prodotte dalla sua grazia nel segreto dei sacramenti per questo conduce l'uomo che gli viene presentato a parte a parte da quella folla tumultuosa delle passioni e dei pensieri vani che l'avevano reso sordo per il cielo a che cosa servirebbe infatti guarirlo se non essendo allontanate le cause della malattia egli è destinato a ricadere gesù avendo dunque garantito l'avvenire pone negli orecchi di carne dell'infermo le sue sante dita che portano lo spirito santo e fanno penetrare fino alle orecchie del suo cuore la virtù riparatrice di quello spirito d'amore infine ancor più misteriosamente perché la verità che si tratta di esprimere è ancor più profonda e gli tocca con la saliva uscita dalla sua bocca divina quella lingua divenuta impotente per la confessione e per la lode la sapienza poiché appunto essa è qui misticamente significata la sapienza che esce dalla bocca dell'altissimo e scorre per noi come un'onda inebriante dalla carne del salvatore apre la bocca del muto così come rende eloquente la lingua dei bambini che non parlano ancora sap 10,21 riti del battesimo così che la chiesa per mostrarci che si attraffigurativamente nel fatto del nostro vangelo non di un uomo isolato ma di noi tutti ha voluto che i riti del battesimo di ognuno dei suoi figli riproducessero le circostanze della guarigione che ci viene narrata il suo ministro deve prima di immergere nel bagno sacro l'eletto che essa gli presenta deporre sulla sua lingua il sale della sapienza e toccare gli orecchi del neofito ripetendo la parola pronunciata da cristo sul sordo muto effeta cioè apriti preghiamo o dio onnipotente ed eterno la tua bontà infinita sorpassa ciò che noi possiamo meritare o desiderare e fondi su di noi la tua misericordia condona ciò che turba la coscienza e accordaci le grazie che non osiamo